Ciao a tutti, perché è difficile avere una relazione con un uomo del Capricorno? Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al nuovo canale, felicità, benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Allora, non è facile costruire una relazione con un uomo del Capricorno, che è il mio segno tra l'altro, perché il Capricorno come si sa è un segno molto iperlogico, molto razionale e affronta un nuovo rapporto con molta prudenza e questo può essere visto nelle fasi iniziali come una chiusura, talvolta come un vero e proprio disinteresse. Diciamo, non bisogna quindi pensare che una persona del Capricorno, che un uomo del Capricorno sia, diciamo, ti faccia vivere un film tipo Hollywood, diciamo, in cui arriva il principe azzurro, fa questo, fa quello, il Capricorno non fa questo, non è un segno che lascia, diciamo, trapelare molto la sua emotività e il suo coinvolgimento. Per coinvolgersi deve considerare la persona che è accanto veramente una persona speciale e allora dà il meglio di sé. Superata, diciamo, un po' la diffidenza iniziale, il Capricorno si ribellerà comunque un partner affidabile, un partner che però non avrà mai slanci, diciamo, particolari, quindi alla pretty woman, per dire, no? Dove lui fa questo, fa quello, insomma. Il Capricorno, da questo punto di vista, ha un comportamento più standard, diciamo così, di profilo più basso, non ha slanci romantici, però dà comunque affidabilità e è comunque tendenzialmente un segno fedele, protettivo, entusiasta e anche passionale. Anche qua tutto è entro certi limiti, ad esempio non ha la personalità sicuramente che può avere il toro e che può avere lo scorpione e non ha la fedeltà eccessiva del toro, però il Capricorno dà la possibilità ogni giorno di fare una scoperta nuova perché è un segno che è molto curioso, tende a sviluppare, diciamo, diverse conoscenze in diversi settori, per cui è sempre comunque da questo punto di vista anche intellettuale un'avventura stare sempre assieme al Capricorno. È molto esigente e quindi ritiene che se una donna in questo caso non è alla sua altezza non vada bene per avere una relazione. Inoltre è un segno molto osservatore e quindi, diciamo, osserva anche molti comportamenti della persona e talvolta, appunto, se i comportamenti non gli piacciono tende anche qua a distaccarsi un po'. È un partner valido, però non è semplice da conoscere perché comunque anche tende a farsi conoscere col contagocce per cui ci vuole tempo per costruire qualcosa di soldo o qualcosa di importante. Ecco, queste sono le caratteristiche e le difficoltà principali dell'avere una relazione con un uomo del Capricorno. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!